ciao e benvenuto in questo nuovo video oggi insieme impareremo la tabellina del 2 ecco a te la filastrocca 2 per 1? 2! in fondo alla stalla c'è il 2 2 per 2? fa 4! quel cappellaio è proprio matto 2 per 3? 6! sei l'alunno che vorrei 2 per 4? 8! è passato un bassotto 2 per 5? 10! a pranzo mangiamo ceci e 2 per 6? quanto fa? fa 12 2 per 6? 12! quei due sono proprio ironici 2 per 7? 14! la sarta taglia il vestito con le forbici 2 per 8? 16! devi solo crederci 2 per 9? 18! quel palloncino è un salsicciotto 2 per 10? 20! siamo stati tutti attenti ripetiamo insieme 2 per 1? fa 2 2 per 2? fa 4 2 per 3? fa 6! 2 per 3? fa 6! 2 per 4? fa 8! 2 per 5? 10! 2 per 6? fa 12! 2 per 7? fa 14! 2 per 8? 14! 2 per 8? è uguale a 16! 2 per 9? è uguale a 18! 2 per 10? fa 20! grazie per aver seguito insieme a Bimbolandia la tabellina del 2 se ti è piaciuto il video metti un like e condividici con i tuoi amici e clicca su mi piace clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti